Il comune di Calciano è entrato nel circuito delle città del miele. Lo ha ufficializzato il sindaco Giuseppe Arturo di Filippo durante un incontro che si è svolto i giorni scorsi nel cortile dell'istituto comprensivo Rocco Scotellaro, dove sono stati invitati diversi apicoltori del comprensorio a esporre i loro prodotti. Prima dell'inizio l'assessore regionale alle politiche agricole e forestali Luca Braia ha scoperto la tabella Calciano città del miele da affiggere all'ingresso del paese, che poi è stata consacrata da Don Angela Auletta. Il sacerdote ha poi invitato i presenti a riflettere su tre testi, tratti dalla Genesi, dal Deuteronomio e dall'Apocalisse, che hanno come tema il miele. La volontà dell'amministrazione comunale, di concerto con l'Associazione Apicoltori Lucani e Santa Maria della Rocca, di entrare a far parte del circuito delle città del miele, è stata spiegata dal sindaco De Filippo, riferendosi ai riconoscimenti ottenuti dalle aziende del comprensorio ed altre aziende lucane a livello locale e nazionale. L'apicoltura, non solo come attività agricola, ma anche come occasione di sviluppo turistico, è stata evidenziata dalla vicepresidente dell'Associazione Santa Maria della Rocca, Maria Bamundo, che ha comunicato di volerla inserire negli itinerari escursionistici di Calciano. Gli interventi tecnici sono cominciati con quello di Pancrazio Benevento, presidente dell'Associazione Apicoltori Lucani, che si è soffermato sulla sua esperienza professionale, mentre Mario Atlante, presidente del Parco Gallipoli Cognato, ha sottolineato l'importanza nell'area del parco di Calciano come città del miele e ha invitato gli apicoltori ad associarsi e a caratterizzare il miele come prodotto di aria protetta con il marchio del parco. Delle associazioni di categoria e delle loro funzioni hanno poi parlato Alberto Contessi, presidente dell'Osservatorio Nazionale del Miele, e Giuseppe Cefalo, presidente dell'Unione Associazioni Apicoltori Italiani. Quindi Frango Rondinella, presidente del Consorzio Regionale del Miele, ha insistito sulla valorizzazione del miele lucano come unica difesa dal miele che arriva dall'estero o dai mieli miscelati. Infine è intervenuto l'assessore Braia, che ha evidenziato come il settore dell'apicoltura sia stato per molto tempo immarginato e che l'apicoltura non è solo un'attività agricola, ma è un comparto che ha un'incredibile incidenza sull'ambiente, sul paesaggio, sull'economia, sulla società, sulla didattica formativa e sulla cultura. Ha quindi spiegato che il lavoro fatto in Basilicata negli ultimi anni sia stato di recupero del ritardo accumulato, ma che sia stato anche l'inizio di un lavoro molto più incisivo per rendere il comparto più vivo e organizzato, per le potenzialità della regione Basilicata e perché l'Italia ha il miglior miele al mondo, grazie alla grande biodiversità che la caratterizza.